Entra nel vivo l'inchiesta Agora, sistema di cooperative da 800 dipendenti e centinaia di assistiti nelle RSA finito nel mirino delle Fiamme Gialle. Per il prossimo mercoledì, infatti, il GIP Fabio Lombardo ha fissato gli interrogatori di tutti coloro per i quali il procuratore Roberto Rossi aveva chiesto l'interdizione dagli incarichi sociali, tra loro anche l'ex presidente della provincia di Arezzo ed ex presidente Agora, Roberto Vasai. A seguito degli interrogatori, il giudice deciderà se interdirli o meno. Tra gli altri indagati, per cui il giudice invece aveva firmato le ordinanze di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, Daniele Mazzetti, considerato dominus della vecchia Agora, già scarcerato per motivi di salute e adesso ai domiciliari. Ancora arresti, sempre tra le mura domestiche, anche per l'ex presidente Letizia Beoni e il commercialista Alessandro Corsetti. Le stanze di remissione in libertà presentate dalle rispettive difese sono state, in questo caso, respinte dal GIP. Tutti e tre erano finiti in manette con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'evasione tributaria per 26 milioni di euro con la gestione delle RSA, un articolato meccanismo amministrativo e fiscale viziato secondo gli inquirenti da gravi irregolarità. Nel frattempo, in Agora c'è stata una vera e propria rivoluzione che ha estromesso la gestione precedente. C'è infatti un nuovo presidente, Roberto Tassino, 54enne perugino ed un nuovo CDA.